Ciao a tutti ragazzi e no questa volta no la campagna, mi sono rotto le scatole anch'io dobbiamo fare multigiocatore però c'è un infiltrato Mr.L ragazzi sempre qui con voi dire sempre con chi che vuoi è un po' un azzardo perché da un mese che non fai video quindi non so ma tu non sai cosa mi è successo oh finalmente allora abbiamo detto prima che probabilmente avremo tagliato con chi sei te, è bella la mappa? sono con l'Italia, sono con l'Italia andiamo avanti con... ah no aspetta, dobbiamo aspettare l'ho appena appena accennato nel video di SCP che ho fatto io e praticamente io e i Chris siamo andati bravissimo ne hai citato giù uno, bravo e i Chris tempo fa siamo andati in montagna a come si dice con un gruppo di amici, c'è una comprete e praticamente e praticamente abbiamo fatto questa passeggiata in montagna ve lo direi magari non vi da parte forse dove vi racconteremo tutto ciò che è successo stavamo tornando giù ragazzi stanchissimi arrabbiati perché perché eravamo arrabbiati perché c'erano i cortelli con scritto a destinazione tra 40 metri tra 40 minuti si arriva a destinazione andiamo su ancora tra un'ora si arriva a destinazione ma che cazzo una o l'altra infatti eravamo un po' i cazzati che non ci hanno detto che metà erano rimasti giù perché non erano partiti perché uno aveva male alla gamba occhio che è un nemico occhio che ti hanno ucciso in volo aspetta 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 no 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 non va si è anche e praticamente eravamo anche i cazzati stiamo scendendo eravamo con un ragazzo davanti a noi che conosceva la strada tuttavia è successo che sfortunatamente io ero un attimo dietro ero stancho in quel punto avevo detto ehi Chris fermati un attimo aspettami e Chris ha fermato e mi ha aspettato ci abbiamo continuato a scendere e intanto l'altro è andato avanti veloce perché era veloce l'altro e ci sono ritrovati noi due in mezzo alla montagna e in un sentiero non sapevamo dove andare ma il sentiero è lo stesso dopo un po' che andiamo giù li diamo in un bivio io dico ehi Chris io non mi ricordo questo bivio e lui io si io si bisogna andare avanti no no a destra dobbiamo passare il torrente no no fidati mister L bisogna andare avanti noi andiamo avanti per il sentiero e poi ci fermiamo ehi Chris basta ehi Chris io non mi ricordo quell'orto neanche io mi ricordo quell'orto torniamo indietro mister L torniamo indietro cazzo e Chris forse ci siamo persi quindi ci mettiamo a chiamare gli altri oh ci siete grazie al cielo arrivano e ci salvano erano proprio dietro di noi e allora poi ho detto ehi Chris ohi Chris ma io ti ho fatto paura e lui persi in una montagna nel cazzo di nulla no è la parte più bella che noi avevamo dobbiamo anche portarci le provviste perché giustamente vi racconto un po' l'intelligenza umana uno dice mister L ma perché hai portato lo zaino non serve ragazzi dovevate portare lo zaino intanto il capo ha detto dovete portare lo zaino perché dovete portare le provviste cioè uno dice perché l'hai portato non serve in modo arrogante no zitto tu non sei un cazzo tu sei la causa perché l'umano esiste la misantropia tu sei la causa perché esiste la misantropia quindi sta zitto la parte più bella è che tipo c'eravano tipo persi ma erano tipo tu cosa ne avevano daino? acqua e tu ah infatti mi sono fermato si fate che noi dobbiamo portarci le provviste nemici cavolo sparo sto fai schifo dammi qua no perché devo fare clicco gli esplosivi quindi uso le granate ma fai un po' di pro gaming allora cambiate video no qui c'è il pro gaming guardate che vi ha siete così tanto sotto pressione che siete chiusi in un edificio barricati dentro con i nemici che vi stanno circondando e infatti noi portavamo le provviste ogni volta mi distraggo chiudo gli occhi portavamo le provviste noi e così facendo io avevo i panini i crins l'acca mi hanno detto sopravviviamo anche per una settimana se ci perdiamo ma giusto per farvi per farvi capire che cazzo è con te eh ma scusa ma chi lo sa per farvi capire quanto quanto come dire come funziona l'umanità dopo un secondo che noi ci eravamo persi dopo 10 secondi ben realizzato i crins ha cominciato ad attaccarmi tutta colpa tua che mi hai fatto ramentare se no stavo dietro agli altri non mi perdevo e io no ti perdevi comunque non è vero non riuscivi a stare dietro dopo 10 secondi ad accusarci l'un l'altro vai vai però è molto bella la lampa guarda saremo sulle Alpi qua immagino che siamo con gli italiani siamo con il Regno d'Italia giusto? non muoire no tieni tieni sei stato forse sei stato il primo medico che ho fatto qualcosa da quando è uscito alla beta non muoire no ti metti la supposta in culo no tieni oh mettete a cerchinare cazzo fai schifo fai schifo ho preso però no di teniti bravo guardala adesso miseriaccia ah io gli odio gli inglesi no sto andando bene in inglese sto andando bene ora in inglese quindi non gli odio più perché ok sei l'impero britannico no 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 sto laggando un po' oppure suoi gli altri che mi spingono ok io non conosco la mappa fioi fate scuola qua ci sta un po' di cecchinaggio buono eh sì è quella buona per il cecchino porco il cazzo poi io non so dove andare io però non so dove andare non so da che parte arriva il nemico e questo è il problema devi prima trovarlo dopo impularlo spero prima che lo battassi non ci prendono da dietro vero eeeh no cazzo come faccio a spostarmi vaffan con la levetta vedo no non vedo niente neanche io c'è il gas c'è il gas non so cosa soffia sul gas mi non vedo nemici stiamo combattendo fantasmi eh però gli ha fatto 5 a 4 5 a 4 porco il cazzo aiutatemi sono un cecchino eh sono un cecchino non dovrei neanche essere qua porco il cazzo no vieni a prendermi ha fiutato il se conosce il mio odore ora ti viene a prendere non sai con te ma addio andai dietro però ho fatto a cagare beh allora ora ti devi ricredere su quello che hai detto prima però no dai io non conosco la mappa io non ci gioco ma sei ancora lontano da me sei tu ok ti devi avvicinare te così siamo equilibrati dammi in più cuffia animale bravo ma sei un ciupacuffia sulla cuffia sulla cuffia porco il cazzo siete morti bastardi inglesi bastardi sono i crochi quelli bastardi tedeschi nazisti porco il cazzo perché non lo colpisco bravo l'hai preso l'hai preso nemico colpito te l'ha dato dopo che l'hai preso eh sì infatti lagga un po' porca troia ma lagga sempre da me io lagga eh fa male troia eh eh bene e una e muore il ritardo basta non mi toccare la spalla altro braccio guarda lì guarda lì eh jod no cavolo stavo andando benino eh sono stato stronzo perché ero in mezzo alla strada riconfermo però mi sentivo sicuro perché li vedevo distratti non sai quanti sono in mezzo alla strada a cecchionare io dopo basta no tu ricarichi in mezzo alla strada sta buono perché no io ma poi un altro che impieghi questo oppure è un continuato no è sempre quello porco il cazzo spera che mi sdai un pochettino ma va la fa troppo no da dietro no da dietro no non ho meno merito di morire da mi sponano i nazisti eccolo eccolo nazisti dietro al culo non fa il giro no sì no sì 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 ma che cazzo fa cagare la pistola ragazzi non vale nulla però ti ho deciso con una pistola lui sì lo so ma non sono pratico io ma però ragazzi sono sponato con il tedesco in culo beh in effetti non ha tutti i torti cioè è come dire è come se spono col fucile dietro la schiena è un'esecuzione cazzo arrivano i nemici ecco gli lì in fondo vabbè quello lì era anche abbastanza lontano no aspettate che sono esposto qua ma questo questo secchino qua che si che gira così no poi c'è gas ma vabbè tanto anche se oh no sono un bersaglio qua ragazzi sono proprio un bersaglio in prima guerra mondiale erano tutti bersagli chi non si faceva beccare era privilegiato no niente sono due e tre una una e bravo oh l'ho ucciso occhio che sono dietro di noi con la pistola no qua no appalate occhio che sono dietro di noi no qui avevo visto passare entrare qualcuno adesso mi sono andato allora io l'avrei sbarato ma ma siamo in un'altra ok da dove arrivano i bastardi di qua forse eccolo lì vaffanculo occhio che ci prendono le suzze merda via 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 si è stato un bel casino ricarica ok che lo dice spera che stanno è un bersaglio questa zona ragazzi non teniamoci un secondo ecco l'ecolo vabbè gas no merda ha fatto qui xcop col fucile ah no sto qua è corretto mi sembra ah ok ok ragazzi il gameplay è finito qua e ci si vede al prossimo gameplay chris saluta ciao ciao